Davide, questo per te è un film che rappresenta un curioso esperimento perché gioca con i generi. Da dove nasce l'idea per la scena perfetta? L'idea nasce da una storia vera, nel senso che Stefano Sardo, che è lo sceneggiatore di questo film, ha scritto questo soggetto dopo aver letto su un giornale che tantissimi ristoranti nel centro di Roma erano gestiti dalla criminalità organizzata. E quindi ci siamo resi conto che c'erano proprio questi ristoranti lavanderia che servivano ai clan malavitosi per riciclare del denaro. E quindi da lì nasce l'idea di questo film. L'idea di giocare con i generi invece, perché è un film che passa in modo fluido e amabile dai toni della commedia alla commedia romantica, al crime, e poi il film gastronomico culinario perché la cucina è importante. Allora, io amo definire la cena perfetta come una commedia romantica gastrocrime, nel senso che quello che dicevi un pochino tu, sicuramente l'amore è il collante di tutto questo, però c'è anche una forte componente crime e una forte componente invece legata al mondo della cucina. Mi ha appassionato sin da subito il fatto di poter raccontare la storia di questo amore impossibile tra Carmine, che appunto è un camorrista dal cuore buono, quindi un personaggio molto 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 particolare con un passato anche abbastanza turbolento alle spalle, e dall'altra parte Consuelo, che sicuramente è una chef con grandissimo talento, ma anche lei con un carattere abbastanza, come dire, importante. Però mi piaceva proprio l'arco di trasformazione di questi due personaggi, cioè il fatto che, come dire, si unissero nella buona e nella cattiva sorte grazie proprio alla cucina, cioè la cucina in qualche modo è in grado di farli avvicinare e poi in un secondo momento anche di farli innamorare. Quindi mi piaceva proprio questa commissione, la sfida più importante è proprio stata quella di, come dire, amalgamare bene questi ingredienti, perché su carta funzionavano bene, però al tempo stesso poi dargli una resa visiva che in qualche modo non ti facesse stranire passando dal crime alla commedia romantica era la sfida più complicata. Infatti credo che forse una delle difficoltà più grandi sia stata quella di trovare un linguaggio unico, organico, per raccontare una storia dai tanti lati, con molte spaccettature. Sì, è stato complicato, però ti dico anche che il punto di partenza era notevole, nel senso che è una bellissima sceneggiatura e quindi, come dire, ho avuto la vita facile, tra virgolette, nel senso che ho avuto la possibilità veramente di dedicarmi al mestiere di regista, perché una volta, come dire, che quella roba lì su carta funziona, beh, poi nella messa in scena ovviamente ci puoi mettere sicuramente talento, passione, tutto quello che vuoi, però è sicuramente molto, ma molto più facile. Io ho avuto la fortuna di avere un cast pazzesco, ma anche appunto due protagonisti importanti che si sono fortemente fidati del sottoscritto. È stato veramente un bel rapporto quello che si è venuto a creare, perché noi ci siamo divertiti tantissimo nel realizzare questo film. Non era facile divertirsi, perché ovviamente, come dire, devi sottostare poi a quelle che sono le regole del set, che sono delle regole molto ferre, dove tu hai la necessità di girare tantissima roba in quel tempo che ti viene dato a disposizione, quindi è sempre una corsa contro il tempo. E la cucina di per sé, come dire, va contro questo concetto, perché poi invece dietro la preparazione di un piatto, per quanto tu in televisione possa vedere appunto le persone che urlano si chef, dove c'è appunto tantissima disciplina, però poi ovviamente ci vuole tanto tempo per realizzare determinati piatti. Quindi è stata una sfida bella, importante, impegnativa e sono veramente contento di averla condivisa con questo cast. E inoltre possiamo dire che oltre alla cucina c'è di più, nel senso, in apparenza, la cena perfetta, come abbiamo detto, appunto sembra incentrato comunque su questo argomento della cucina, che è fondamentale a livello narrativo, però gli argomenti trattati sono altri. L'importanza dei sogni, del perseguire i propri sogni e di come la realtà molto spesso faccia irruzione in modo brusco in questi sogni. Però c'è anche un tema che in greco è il nostos, cioè la malinconia del ritorno a casa, il ritorno a casa. Visto che si parla molto nel film di ricordo-memoria, secondo te ci possiamo avvicinare a una casa metaforica, non effettiva come luogo fisico? Sì, ci possiamo in qualche modo avvicinare, più che forse ad una casa mi verrebbe da dirti che la ricerca che entrambi fanno è quella della strada perfetta, nel senso che sono entrambi due personaggi che perdono la retta via, perdonami il termine, perché Carmine è sicuramente uno che si ritrova a vivere quella condizione di Camorrisa, cioè uno che nella vita avrebbe sicuramente voluto fare altro. E Consuelo è invece un personaggio dalle mille sfaccettature perché, come ti dicevo prima, è sicuramente una chef talentuosa, però che capisce forse troppo tardi che non basta la tecnica per essere una brava chef. La strada che loro in qualche modo individuano è una strada comune che in qualche modo riescono a trovare proprio perché condividono un percorso di vita importante assieme, perché entrambi servono all'altro, nel senso, come dire, Carmine grazie a Consuelo fa un determinato percorso e Consuelo grazie a Carmine trova il modo di capire che la cucina va al di là della perfezione assoluta, ma che in qualche modo bisogna metterci dentro la memoria. Il fatto in qualche modo di mettere nei piatti la memoria aiuta Consuelo a fare poi il piatto perfetto.